benvenuti rossi e rosse qui in questa nuova serie di kane lynch 2 e con me a fare il mi compagnia in questa serie ci sarà robozombi 94 salve ragazzi benissimo io questo capitolo non l'ho mai giocato però ho giocato il capitolo precedente lei l'ha giocato il primo purtroppo no anche se ce l'ho sul pc e volevo giochi chiaro un po ma quando mi ha detto che giusto sui due si può giocare il copo online infatti volevamo fare il primo ma non si può solo schermo condiviso roba che non esce più un gioco non si sa da quando schermo condiviso schermo condiviso mamma mia e quindi niente ci tocca fare questo io direi di iniziare subito bene iniziamo speriamo che stavolta non crash speriamo bene inizia questa avventura che io non ho mai fatto ho fatto solo il primo solo la storia del primo quanto basta non Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sì, sarà bello rivederlo, dopo così tanto tempo. Senti, ti chiamo dopo. Tengiamo qualcosa insieme. Sì, anche tu, baby. Ciao! Oh, siù! Merda! I caricamenti eterni del gioco. Mamma mia, almeno adesso non do problemi. Bene, bene, allora il triplo buffering. Eh, probabile, sti tripli merda. Infatti io pure quando l'ho levato rispetto a ieri l'immagine mi andava più fluida. E adesso silenzio, che c'è un altro cazzo in me. Mera, l'inizio, so com'è. Ciao! 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 Kane? Kane! Benvenuto a Shanghai! Un fottuto volo infinito, eh? Bello vederti! Quanto tempo! Come va? Lascia, faccio io! Allora, sto bene. Lascia stare. Pensavo che sarebbe venuto a prenderci. Beh, lo so. Beh, lo vedremo domani. Beh, dobbiamo discutere di un po' di cose. Eh, sì, di qua. Alcuni aspetti dell'accordo vanno riconsiderati. Certo, certo. E tua figlia? Va bene. Voglio dire, dopo quello che ha passato... Ho detto che sta bene. Piantala con le persone. Ok, ok, scusami. Agiremo giovedì mattina. Domani Glazer ci preleverà per il briefing. Va bene. Dov'è che sto? Adesso ti porto in albergo. Devo solo fare una cosa. Devo parlare con un tizio qui. Sarà una cosa veloce. Eh? È uno che ha parlato troppo. Ok, ma dopo aver giocato al gangster... Portami in hotel. Ma certo. Ok, ci siamo. Ascolta, questo è un pesce piccolo. Perfetto. Glielo in fresco un paio di cosette. La valigia la lascia lì. La valigia? Eh, non la prendo. Non si può prendere. Addio valigia, allora. Addio valigia. Ma qua che ci sono collezionabili, qualcosa, no? Non che mi risulti. Qui non c'è una cepa. Aha! Ehi! C'è il surone subito, tra l'altro. Giustamente, niente tutto. Guarda il c'è il surone. Non si sa mai. No, dobbiamo prenderlo. Io credo, è tanto ora. Aha! C'è pure il tempo. Che lampeggia pure, tra l'altro. Troviamo un riparo! Mamma mia, un po' scomodo il coso qui. Ah, ah, ah. Calcione. Però a me mi dice tasti della tastiera e non quelli del joypad. Ma è un gioco... Molto pagato. E rispetto al primo è... Speso quattro colpe di pistola, ancora cammina. E adesso... E qua! Tranquilli. C'è un'uscita sul retro? Sì. Qua! De capisci. Aia! Non ho ancora capito come ce si abbassa. Spara a quei cazzoni! Eh, infatti manca un tutorial. Sfra tutto col coso. Lì c'è sempre fine. Ok, ricarica arma e con... R1 per me. R1 per me. Invece a me me lo fa con X, perché io c'ho il pad dell'Xbox. Eh, giustamente. Ma non si corre? Non lo so. Sto provando a vedere come si corre, non mi pare. Un finto tutorial lo potevano anche me. No, si gioca bene giusto col tastiere, perché ho mollato un attimo il pad. Per la tastiera e pare che si giochi meglio, veramente. Lì. Certo, però per correre ti devi il mal di testa. Comunque non è il... Non è un... Coso. Che coso? Quello è un orologio, non è un timer. Ah. E perché ogni tanto se ne va, vai e viene. E' visto. Vedete che è per ricordarci qualcosa. No, dobbiamo andare. E' qua, mi è stato il cascavalcano. Ecco. In effetti tutto ha sfocato quando corri, io. Senti stupido. Sto gioco... La droga. La droga la senti scurida. E comunque continuiamo a inserire pure quella tizia. Continuiamo. Eccolo lì. Dai, che ripresa quasi la tizia. Te ci ha mandato. E vabbè, no, no. Ma sono tutti amici su, oh? Ah, io. Ho pochi amici, mi dico. Ma che cazzo? Mi sono trovato per terra. Ho un compadro, un amici. Ah, vabbè? Così funziona. Ah, ma c'è il mitra per terra. Ma se ti colpiscono una volta mi sa che vai a terra così. Se ti colpiscono più volte mi sa che ti ritrovi. Glaser si incazzerà a morte quando lo saprà. Glaser. Ma che resta lì? Commessi. Commesso, però. Commesso, qui spara. Ma io. Mi deve aver pizzo, sicuramente. Rieccolo. Quanti siete. Allora. Multiplicano questi. Sociatici, per forza. Ah, moltiplicazione del corpo. Io non ho la zittà, eh, però. E qua io vedo. Che piaziamo si gialli. Come si cambia arma? Con triangolo. La pistola è molto più precisa. Fatti. Ancora un crepa, questo. Ancora un crepa, questo. Dov'è finito? Allora crepa. Che cazzo l'incio. Ma non doveva essere una cosa da niente. Andiamo. Una faccia da una cosa da niente. Questa è tutta la città dalla sua parte. Te l'ho detto. È la mafia. Mi ho sparato un colpo sulla spalla, niente. Sulla chiappa. Come diventare epilettico. È bella che quell'altra si ferma, ci guarda. Eh, ma ancora è la donna nuda? Ma donna mia, il tuolo come è che ho fatto? Gli ritireranno la patente. E non solo. Eh, io gli ritiro la licenza di vivere, però. La donna nuda... Ah, ma l'ha... Non l'ha ficcata sotto. È entrato nell'edificio in mezzo! È stato un altro. Che cosa mi nascondi? Ahah, lei è il fucile a pompa! Eh, ogni tanto... No, solo una complicazione. Bip bip. La guerra? No, questa è una complicazione. Aiuto! La tannica di benzina. E io la lancio, giustamente. Eccola qua. Beh, è rimasto. Eh, mi sa che sto occupato di tutto. Oh, ma qua come guidano. Oh, ma qua ci stanno bombardati. Ho carino a prendere la tannica. Eh, sì, mi sa. No, ma ci stiamo riparati allo stesso punto, però. Ma che diavolo. C'è un po' di rinculo che manca. Non noteranno mai se saranno detti a la Eidos. Eh. E alla Square. Perché a Final Fantasy non ci sta rinculo. Giustamente. Eh. Giustamente. Parca. Ma chi è di spano ancora? Ah, il cine. Vedi? Col casco. Questo col casco. Non sono venuto qui per tu. Garanzia casco. Dov'è finito? Davanti a te. Come vero? Diamo una lezione a quel bastardo. Forza. Ma il bello è che se ferma e ci aspetta. Sì. È il nostro. È in trappola. Non ci scappa. Ahà, ma come? Prima c'è la chiave e poi... E poi la usa come scudo. Ok. Ti sei calmato? Forza, parliamo un po'. Ehi. Tranquillo. Ah, proprio sì. Anche bar. Ancora che prova. Ma che cazzo è successo? Hai ucciso la ragazza. Ok? Non sono stato io. Sì. Sì. Recuperiamo il tuo bagaglio. Assassini falliti. Dovrò inventarmi qualcosa per Glazer. La mano di Dio. Benvenuti a Shanghai e un po' di aiuto da... Ci porterai al porto, giusto? Ah, bene. Sì. Anche Kane vuole parlarsigli un paio di cose. Ok, tra venti minuti. Va bene, a dopo. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti